Ciao sono Luca di Mister Gadget e insomma per chi vede questo filmato in tempo reale al momento della sua pubblicazione da pochissimo è terminato il Keynote di OnePlus e noi siamo qui per presentarvi OnePlus 6T Questa è l'edizione di mezzo diciamo, OnePlus 6T arriva di solito a metà di un anno per migliorare alcuni degli aspetti del prodotto che è stato presentato qualche mese fa E allora vediamo come si presenta con la sua confezione ufficiale in arrivo a brevissimo sul mercato Dentro la scatola ovviamente il telefono ma lo guardiamo dopo Nella confezione, questo secondo me è un dato importante e sempre utile, c'è anche una custodia in TPU È una custodia di quelle praticamente simile, trasparente, adattissima peraltro alla soluzione del Midnight Black Cioè quello è il colore con diciamo il nero satinato, poi lo vediamo da vicino All'interno anche una lettera da Pete che è il CEO di OnePlus e poi sempre nella confezione con l'eleganza, la discrezione, la precisione tipica di OnePlus Ecco il cavo con i classici colori rosso e bianco e poi l'adattatore da USB Type-C a jack Perché una delle novità di questo modello del OnePlus 6T è che non ci sarà il jack delle cuffie E poi come sempre, solitico per estrarlo, il caricatore Dash Charge Vuol dire che potete utilizzare fino a 4A per la ricarica, oltremodo veloce Poi torniamo anche su questo argomento Subito un'occhiata dunque al telefono OnePlus 6T per capire bene come funzioni e soprattutto come è fatto Quali le differenze fondamentali? Parto dal display 6,41 pollici di diagonale Ottenuti riducendo sensibilmente il cosiddetto chin, cioè il bordo inferiore E poi rimpicciolendo drasticamente, ve lo faccio vedere però con uno sfondo più adatto A farvi vedere questo dettaglio, cioè rimpicciolendo drasticamente il notch Ecco, così lo vedete nel migliore dei modi Vedete solo una piccola goccia qui al centro per nascondere la fotocamera anteriore Che poi serve anche per la lettura del viso Allora, una definizione, 1080x2340, 402 pixel per pollice Anche questo ovviamente è uno schermo come nella tradizione di OnePlus, uno schermo OLED con una leggibilità assolutamente eccellente Protetto tra l'altro da Gorilla Glass 6 e questa è una novità assoluta C'è una calibrazione personalizzabile del display, quindi potete scegliere voi quanto intensi debbano essere i colori Avete anche una modalità notturna per togliere la luce blu oppure una modalità lettura per trasformarlo in bianco e nero Ruotiamo e andiamo verso la parte posteriore dove vedete c'è una delle novità fondamentali Doppio sensore di fotocamera ma non vedete più il sensore delle impronte digitali che vedete che non c'è Peraltro vi devo dire che questa colorazione Midlight Black è bellissima Pur sembrando metallo questo in realtà è vetro Perché quindi vetro davanti e vetro dietro Ma come noterete manca un dettaglio Non c'è dietro, non c'è davanti Insomma dove è il sensore delle impronte digitali E lo vediamo subito perché quando voi sollevate il telefono Adesso io non l'ho in realtà appoggiato davvero Appare il lettore del sensore delle impronte digitali che è sotto il display Molto veloce ma devo dire che mi ha già richiesto di ricalibrare Di riregistrare le impronte un paio di volte ad esempio con il cambio di umidità di questi giorni Una volta fatto devo dire che vedete è discretamente veloce Quindi tutto sommato non ci si può lamentare di questa soluzione Del sensore delle impronte digitali praticamente dentro il display Volendo potete fare in modo che tutte le volte che toccate il display Appaia il sensore ma probabilmente non ha molto senso Per me lo ha quando si alza il telefono Se preferite però vi faccio vedere anche in questo modo Il fatto che lo sblocco è stato fatto in questo caso con il viso E avete visto lo rimostro un'altra volta che è stato veramente veloce Per quanto riguarda l'aspetto Allora il controllo del volume su questo lato Il cosiddetto volume rocker Sulla parte inferiore l'attacco per la connessione da USB type C Con microfono e altoparlante E sulla parte superiore vedete non c'è praticamente alcun tipo di controllo Su questo lato invece si ritrova il pulsante di accensione E poi il OnePlus Switch Il OnePlus Switch che anche in questo caso quando viene attivato Viene accompagnato da un pop up che vi dice se state mettendo in modalità silenziosa In modalità invece con audio oppure in vibrazione Ma cosa cambia in questo nuovo OnePlus rispetto al precedente? Allora abbiamo il display più grande 6,41 pollici Abbiamo l'elemento del nuovo sblocco del display con l'impronta digitale Abbiamo una batteria più grande Una batteria che è arrivata a 3.700 mAh E poi ancora Oxygen con Android 9 Che possiamo cominciare anche a guardare insieme L'altra novità che io vi faccio notare che è importante Che ora la base di OnePlus ha una memoria di 128GB con 6GB di RAM E poi l'ultima novità è il cosiddetto Smart Boost Su questo ci torniamo Allora vediamo Un'interfaccia veramente molto molto pulita Avete la possibilità di gestire il tema dei gesti rapidi Quindi sono molti i gesti rapidi che potete utilizzare per avviare l'assistente di Google Non essendoci più tasto centrale Se scegliete le gestures di OnePlus Dovete semplicemente premere a lungo ma non troppo il pulsante di accensione Vedete che è tornato l'assistente di Google Vi ricordo tra l'altro che sollevando e poi tenendo il dito fermo Avete in pratica il multitasking Che con un movimento invece sul lato del display Tornate indietro e invece in questo modo tornate alla schermata Home Ci tengo appunto a sottolineare che volendo però siete voi a decidere Se volete per la navigazione invece i tasti tradizionali In questo caso ovviamente nella loro versione Android 9 lo potete fare Se volete tornare addirittura indietro nel tempo E evitare la personalizzazione Android 9 di Google Potete addirittura mettere i tasti in fondo al vostro display Io ho scelto invece di utilizzare le gestures di OnePlus Allora abbiamo detto che sono le novità presenti Diciamo piccoli ritocchi qua e là ma che in realtà sono significativi Dentro OnePlus 6T c'è lo Snapdragon 845 6 o 8 giga di RAM per questi modelli Tra l'altro grazie ad un utilizzo molto smart della RAM È stato introdotto il cosiddetto Smart Boost Alcuni dei dati delle applicazioni più utilizzate Vengono inserite direttamente nella RAM In modo tale che la riapertura delle applicazioni Sia molto 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 più veloce Vedete software con velocità abituale Anche nel reagire al qualunque tipo di comando Vedete come sia in assoluto proprio molto molto affidabile Noi guardate facciamo una cosa Chiudiamo tutti i software che abbiamo in uso in questo momento Vi faccio vedere ad esempio l'apertura della fotocamera Che tutto sommato è abbastanza veloce e reattiva Ascoltiamo anche l'audio perché questa è una novità importante Dovuta proprio alla riallocazione dei componenti all'interno del dispositivo Ascoltiamo ovviamente l'audio di Radio Number One Che è la casa di Mr. Gadget Per farvi sentire Un audio fortissimo È messo tutto qui nella parte inferiore del telefono Non c'è audio stereo ma l'unico altoparlante È molto potente Questo grazie al fatto che Togliendo il jack delle cuffie e riallocando poi Diciamo i componenti C'è una cassa di risonanza molto più grande per l'altoparlante Rimane ovviamente abitualmente lo smart switch L'abbiamo già detto Insomma che permette di selezionare il fatto di essere In modalità audio normale In vibrazione o in suoneria Audio dunque molto molto potente Tra l'altro con una buona definizione del suono Allora torniamo un attimo alle impostazioni Perché dicevamo gestures Ce ne sono tantissime Ad esempio il fatto che voi potete capovolgere il telefono Per azzittire il telefono Potete utilizzare tre dita per lo screenshot Potete rispondere alle chiamate semplicemente avvicinando il telefono alle orecchie E poi non solo perché potete Aspettate che qui c'è un switch Potete, scusate, un widget Potete chiudere o riaccendere il telefono Semplicemente mettendo il doppio tocco del display Poi non solo Torniamo alle impostazioni Avete la possibilità anche di usare alcune lettere Le potete vedere la O, la V, la S, la M o la W Per aprire delle applicazioni E queste sono, diciamo, delle funzioni Che spesso i produttori cinesi ci mettono a disposizione Questo tipo di gestures sono tipiche proprio dei produttori cinesi Insomma un telefono con un software che si avvicina sia allo stock Stilisticamente adesso è un po' più bello Grazie ad alcuni accorgimenti con il font dedicato a OnePlus E anche con alcuni ritocchi dell'aspetto grafico Però bisogna dire che rimane l'utilizzo molto ma molto semplice Una promessa di OnePlus importante per questo 6T E' quella del miglioramento della fotocamera E allora vi faccio vedere subito una delle novità più importanti La modalità notte Una modalità che esiste solo con la fotocamera principale Vi faccio vedere un dettaglio Se torno ad esempio in modalità foto normale Metto la fotocamera anteriore Se però io metto la modalità notte Vedete torna la fotocamera principale Quindi modalità notte Mi, nel senso che l'ho provata in questi giorni E' di buona qualità ma non proprio esagerata Bisogna dire Discreto il suo utilizzo Vedete qui vedete anche la dimensione Delle foto che potete scattare Potete scegliere tra la ripresa classica 4 terzi Tra la 16 noni, la 18 noni Anzi 19,5 noni Perché tutto il display Oppure la 1x1 tipica di Di Instagram Abbiamo la modalità ritratto Con la possibilità sulla modalità ritratto Quando siamo sulla fotocamera principale Di scegliere anche il livello di sfocatura Che avete sullo sfondo Oppure il livello di intervento Sulla bellezza del viso Quindi avete diverse opzioni disponibili Anche quando si scatta la foto principale Avete la modalità per scegliere la dimensione Della foto che volete scattare E poi invece la modalità di illuminazione Una particolarità riguardo al flash Perché potete sì Scegliere il fatto di schiacciare Semplicemente questo pulsante Per raddoppiare la dimensione Oppure con il bottone Vedete basta scorrere sullo schermo Per attivare lo zoom E magari adattarlo alle vostre necessità Un altro dettaglio importante Vedete con la fotocamera principale Avete sempre Google Lens A disposizione Caratteristiche tecniche La fotocamera posteriore Il doppio sensore Ha caratteristica di 16 megapixel C'è la stabilizzazione sia elettronica Che ottica Un'apertura 1.7 per il sensore principale La possibilità di scattare immagini Dunque di alta qualità Anche quando c'è buio E di girare video 4K a 60 frame al secondo Altro dettaglio da sottolineare Di questa fotocamera È in grado di fare uno slow motion 720 pixel A 480 frame al secondo La fotocamera anteriore Che è infilata nel piccolo notch È da 16 megapixel È in grado di girare video Con una definizione 1080x30 frame al secondo Ha una stabilizzazione elettronica E devo dire che è di una discreta qualità Vi faccio vedere altro dettaglio Della fotocamera principale Cioè il fatto che abbiate la possibilità Di controllare il livello di ritocco del viso Quando vi fate un selfie E poi anche in questo caso La dimensione della foto Il tipo di illuminazione Ed eventualmente il ritardo Nello scatto Allora ho usato un po' poco La fotocamera di OnePlus Per darvi un giudizio che sia attendibile Io vi faccio vedere ad esempio Uno scatto in modalità normale Guardate Velocissima la memorizzazione Velocissimo anche il momento in cui Dallo scatto passate alla memoria Tra messa e fuoco anche E scatto Il tempo è veramente molto molto ridotto Quindi devo dire Fotocamera buona Non so ancora Non ve lo so dire Questo mi richiederà ancora un po' di tempo Se è stato colmato davvero Il gap con gli altri produttori La sensazione è che la modalità notturna Che richiama un po' il modo Che ha Huawei di scattare Perché quando voi mettete in modalità notturna Essenzialmente adesso non succederà niente Scatterà immediatamente Quando c'è buio invece Fa diverse immagini Voi dovete rimanere fermissimi Ecco devo dire che il risultato Di quel tipo di scatto in particolare Io non sono riuscito a farlo Venire proprio perfetto Però insomma Proverò nei prossimi giorni Poi ci aggiorneremo magari Proprio con uno speciale Dedicato alla fotocamera In linea di principio Mi sembra comunque migliorata Rispetto al modello precedente Abbiamo visto un po' tutti gli aspetti Allora di questo telefono Batteria 3.700 mAh La carica fino a 4Ah Per cui nel giro di 30 minuti Avete praticamente un'intera giornata di telefono Pronto per l'utilizzo Snapdragon 845 abbiamo già detto RAM 6 o 8 GB Memoria 128 o 256 Sensore delle impronte digitali sotto il display Fotocamera che promette funzioni migliorate Insomma bisogna dire che questo OnePlus 6T è vero È il prodotto di metà anno Il prodotto intermedio Insomma di media generazione Però il passo in avanti è stato fatto secondo me Ed è visibile Certo è salito anche il prezzo E quindi a questo punto Tocca a voi decidere Se questo prodotto fa per voi oppure no Di sicuro la qualità è garantita Forse gli manca un po' un piccolo dettaglio Guardandolo pur essendo molto bello In questa versione nera così opaca Forse non è più così sexy Rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza Che sul fronte del design Stanno spingendo veramente tanto Ma la domanda è una sola A voi piace?